Mi fanno tutte ingatinate quelle da 10 o non sa niente? 1-0 guarda Occasionissime Da, vi stu, vi stu davlege qua I vi stu davide, vi stu davide I vi stu davide Quanto vale quel numero? Grazie! 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 Va bene, dai! Di cortatone. Mezzo! Grazie! 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 Perché... ...diava ancora lì. Era così anche tre anni fa quando ci giocano lì. Brava! 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 Ok, dopo diremo che è tra i miei migliori quartieri così. No, è una persona. ...diava. ...diava! Ancora lì è la folla. ...diava! Secondo me 3-0-6. Fa quant'altro? No. 4. E' una pistola in piedi! Grazie Luciano Grazie a tutti tagli subito dai bravo dai fatti faccio la collettura grazie 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 grazie